Ben tornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Mete per la giornata di martedì, giornata tra l'altro di maltempo in diverse zone dell'Italia per una perturbazione che porterà piogge soprattutto al nord e sul versante tierrenico. Tra poco entriamo nel dettaglio, come sempre cominciamo ora dalle temperature che restano al di sopra della media, sia le minime notturne, guardate siamo decisamente al di sopra dello zero un po' ovunque tranne in montagna, sia le massime diurne che si un po' caleranno nelle regioni settentrionali sul medio alto tierreno, ma guardate nel resto del centro-sud ancora una volta potremo sfiorare i 15 gradi. Bene ora entriamo nel dettaglio della previsione, diciamo al nord giornata di maltempo, piogge diffuse, battente un po' in tutte le regioni e con nevicate in montagna, mediamente oltre i 700-800 metri, però soprattutto a inizio giornata sulle Alpi occidentali potrà cadere qualche fiocco anche fino a 500-600 metri. Ora passiamo all'Italia centrale, come dicevamo, versante tierrenico, anche qua nuvole e piogge insisteranno per tutto il giorno, ma anche l'Umbria e le Marche vedranno delle precipitazioni, invece situazione migliore tra l'Abruzzo e il Molise. Infine il sud con nuvole e piogge in particolare in Campania e sulle isole maggiori, qualche piovasco anche nel Salento, però non mancheranno anche delle schiarite. Con questo è tutto, aggiornamento in tempo reale anche su Facebook, Twitter e Google Plus alla voce Trevi Meteo.